E' stato presentato nel pomeriggio di ieri nella sala consigliare del comune di Isernia il cartellone teatrale per l'auditorium Unità d'Italia di Isernia. E tra i nomi più importanti risuonano quelli di Massimo Ranieri e Giobbe Covatta. Ma ascoltiamo i dettagli nel servizio. Dottorista Presutti, oggi presente qui Isernia per la conferenza stampa sulla presentazione della stagione teatrale dell'auditorium. Quello che ci interessa sapere da lei è in che prospettiva la Fondazione Molise Cultura vede l'auditorium di Isernia. Quale ruolo potrà avere nei prossimi anni questo polo culturale di Isernia? Noi siamo convinti che avrà una funzione, dà una funzione di carattere strategico per una serie di ragioni e da un punto di vista proprio come dire geografico territoriale. Ma anche perché è un dato di fatto oggettivo, è lo spazio più grande, più significativo. Che va quindi messo a sistema e va sfruttato per tutte quante le sue potenzialità, in tutte le sue potenzialità. Soprattutto se teniamo conto che c'è una tipicità di spettacoli che richiede spazi così ampi, anche per intercettare un pubblico vasto, che non trova altra collocazione se non all'auditorium di Isernia. Ecco, qual è in questo caso, in questa stagione teatrale, il contributo in termini artistici e economici della Fondazione Molise Cultura per l'auditorium Unitaria Italia? Allora, il contributo, questi tre spettacoli li abbiamo finanziati integralmente noi e quindi è un contributo importante perché sono tre spettacoli estremamente significativi che sicuramente intercetteranno il pubblico di Isernia e anche dei dintorni, del circondario, perché poi l'auditorium diventa un polo all'interno di un'area molto più articolata, molto più complessa. E, ripeto, è un punto iniziale per un'articolazione poi progettuale che dovrà, a nostro avviso, anche tenere dentro la letteratura, un certo tipo di musica anche legata a una programmazione di carattere letterario e quindi è un inizio foriero di una serie di altre potenzialità e di una collaborazione molto stritta e sicuramente feconda. Grazie.